un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri notte poco dopo luna un'auto che vedete ritratta nell'immagine è finita fuoristrada nei pressi della rotonda che collega la vecchia strada statale alla nuova 106 incontrata così tra i comuni di roccella ionica e caolonia due dei quattro uomini a bordo per le gravi ferite sono morti mentre feriti gli altri due che si trovavano nei sedili posteriori i morti sarebbero due uomini di gioiosa mario sacco classe 51 originario di bovalino ma residente a gioiosa ionica e di suo genero luca d'attilo fratello del noto arbitro di serie a anche lui di gioiosa ionica l'automobile dopo aver impattato sulla rotonda si è letteralmente lanciata contro il guard rail nell'area sottostante forse la troppa velocità e l'asfalto viscito per la pioggia o un colpo di sonno potrebbero essere le cause dell'incidente a nulla è servito l'intervento dei soccorritori l'immediato arrivo dell'ambulanza del 118 e quello dei vigi del fuoco del distaccamento di siderno non è la prima volta che in quel tratto di strada avvengono incidenti mortali soccorrere Grazie.